Senigallia, agosto. Sulla spiaggia di Senigallia il trionfo della pensione. Della pensione, non della famiglia. Sotto gli ombrelloni sono adunati insieme gli ospiti degli stessi villini 900 in discussioni che non tradiscono uno solo dei luoghi comuni dell'istituzione linguistica borghese. E per questo conservano a ognuno il suo ambito mistero. Ecco il professionista brizzolato, ma ancora sportivo. Ecco la signora vedova, con un enorme statuario turbante giallo e un accappatoio giallo tirato su come una tunica. Va immobile ad armeggiare con la sdraia, patita, misteriosa, scostante e perduta come una Marlène Dietrich. Dai megafoni della grande spiaggia, fitta di capanni e ombrelloni, escono scandite le note di un tango arcaico. Questa gente, sui 50 anni, conserva la vita esattamente come a loro pareva, ideale quando ne avevano 30. Qui c'è un'aria di immediato anteguerra, quando appunto i cinquantenni di ora cominciavano a essere degli arrivati, a ordinare per sé una vita già ben preordinata. Il giallo del turbante della signora matura e misteriosa è giallo banana. Il sorriso del professionista cinquantenne ricorda le vittorie al giro di Francia di Bartali. Mi distendo al sole, visto che sono bianco come uno yogurt dopo tanto girare per le spiagge. Nell'intontimento dell'odiosa bisogna estiva, brusisce intorno a me l'intera spiaggia, col chiepido rumore della risacca. A ferro frasi isolate, punte espressive. Ecco da un ombrellone qui accanto un accurato buon pranzo. È una voce fiacca di giovanotto che dopo un po' però risuona di nuovo con un il mio sesto senso. È una voce trionfante di signora, di zoccoli e anche selezione, il libro di selezione. Ma più là un'altra voce si alza e ricopre le altre perentoria. Enrico! Non andare a bagnarti! Enrico! Poi da un lungo chiacchiericcio di ragazzi diciottenni, studentesse di magistrali e di licei dei dintorni, si alza definitiva la clausola. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. È l'ora di pranzo. Sono scosso brutalmente da un fischietto che sibila con inaudita, rabbiosa insistenza. Mi alzo sul gomito, guardo, tra le sdraie, tra gli ombrelloni passa uno scagnozzo canuto col berrettino marinaro che soffia nel fischietto e urla. È mezzogiorno! È mezzogiorno! Ricorda il nome del padrone ai pensionati che la tavola è imbandita, con un vecchio astio per l'annoso problema del ritardo che fa raffreddare gli spaghetti.